Buongiorno a tutti, desideravo innanzitutto ringraziarvi per essere intervenuti alla nostra conferenza, la conferenza di Parent Project. Alcuni di voi mi conoscono, io sono Fabio Amanti e faccio parte dello staff di Parent Project, ma sono in particolar modo un genitore di un bambino affetto dalla distrofia muscolare di Duchenne, proprio come molti di voi. In questo momento desideravo darvi alcune informazioni su come si svolgerà questa conferenza, che come avete visto si articolerà in maniera differente da tutte quelle che ci sono state fino adesso. Infatti come potete vedere anche dalla disposizione dei tavoli svolgeremo gran parte dei lavori in questa sala, questo perché desideriamo far emergere e far diventare più forte il senso di appartenenza a questa comunità, una comunità fatta di tante persone diverse, figli, genitori, nonni, nonne, zie, zii, amici, sostenitori, ricercatori, medici, tutte persone che ogni giorno combattono e sperano di riuscire a debellare questa patologia. In questa sala ascolteremo le novità sulla ricerca, sulla clinica, ripercorreremo alcune tappe salienti dell'anno appena passato e pranzeremo e ceneremo insieme. Non ci sarà solo questo però, come avete potuto vedere anche dalla scheda di iscrizione che avete compilato, quest'anno abbiamo organizzato quest'evento cercando di affrontare anche alcune delle problematiche che tutti noi, tutte le famiglie si trovano ad affrontare quotidianamente, a partire da come per rendersi cura dei propri figli, ad esempio dallo stretching oppure l'utilizzo di ausili per la respirazione oppure anche per quelli per la comunicazione. Cercheremo di dare delle risposte per affrontare alcune delle questioni che ci toccano da vicino, ad esempio quelle legislative, burocratiche, quelle legate all'integrazione scolastica, relative anche al rapporto dei nostri figli con gli altri componenti della famiglia come fratelli, sorelle oppure quelle legate alla crescita dei nostri ragazzi. Affronteremo anche delle questioni che riguardano l'abbattimento delle barriere architettoniche o alla ristrutturazione dei nostri appartamenti. Inoltre vorremmo anche parlare di come si può aiutare l'associazione nella realizzazione di eventi di informazione e raccolta fondi. Cercheremo quindi di venire incontro e di dare risposte a tutta una serie di esigenze che tutti noi, tutte le famiglie di questa associazione sanno di dover affrontare ma che rischiano di trovarci impreparati a volte e tutto questo dobbiamo fare in modo che non avvenga. Perché se è vero che tutti noi speriamo che presto si riesca a sconfiggere questa patologia oppure rallentarne gli effetti, è anche estremamente importante che i nostri figli siano nelle migliori condizioni possibili quando tutto ciò sarà una realtà, nelle migliori condizioni possibili sia fisiche che psicologiche. Ecco il perché di questo tipo di organizzazione dei lavori. Abbiamo cercato di dare una panoramica il più vasta possibile sul mondo della Duchenne compatibilmente con quello che è la durata della conferenza. A onor del vero questo tipo di organizzazione l'abbiamo importata dagli Stati Uniti. Nel 2010 infatti a Denver il presidente Filippo Buccella ed io abbiamo partecipato alla Connect Conference di Parent Project Muscular Distrophy che era organizzata proprio in questo modo, sessioni plenarie e sessioni parallele. Ci è piaciuta così tanto che abbiamo deciso di replicarla anche in Italia. Adesso concludo il mio breve intervento pregandovi di rispettare gli orari che avete indicato per le sessioni parallele del pomeriggio e vi prego di tenere ben presente i primi tre articoli della legge del presidente. Il presidente ha sempre ragione, il presidente ha sempre ragione e nell'improbabile ipotesi che i collaboratori del presidente avessero ragione entreranno immediatamente in vigore gli articoli 1 e 2. Quindi se la conferenza non sarà di vostro gradimento la colpa sarà mia. Se invece vi piacerà il merito sarà di Filippo Buccella che invito a salire sul palco. Grazie. Non ci si può fidare più di nessuno. L'ho detto a Fabio di non rivelare questi segreti fondamentali nell'importazione clandestina di modelli di conferenze dagli Stati Uniti. Eppure lui non rispetta più le leggi, le vere leggi del presidente. Comunque ne approfitto per chiedere a Pat Furlong, che temo però ancora non ci sia, l'autorizzazione a utilizzare il modello americano di questa conferenza. Immagino che comunque Pat sia tranquilla che senza il suo permesso non ci saremo mai azzardati a utilizzare il suo modello. Comunque Fabio qualcosa di buono diciamo già l'ha fatta per fortuna. Vi ha ringraziato per essere venuti qui. È un piacere rivedere i volti delle persone che ci seguono da tanti anni. È un benvenuto particolare alle famiglie che sono qui per la prima volta. È un momento difficile senz'altro. Secondo me è una fortuna comunque che noi possiamo essere qui. Al di là di tutto uno è portato a pensare di trovarsi in un momento duro della propria vita. Affrontare questi argomenti sia una cosa difficile. Ma io ritengo che siamo fortunati a poter essere qui oggi. La mia solitudine in particolare è finita quando ho incontrato Pat Furlong e è iniziata la nostra avventura con Parent Project in Italia. Di sicuro oggi potete lamentarvi che Roma è troppo lontana da casa vostra ma Pittsburgh vi assicuro è sicuramente più lontana e parlano un romano e un italiano peggiore del nostro. Quindi insomma secondo me vi conviene rimanere qui a Roma e siete sicuramente più fortunati di quanto siamo stati noi negli anni precedenti. spesso mi capita ancora di chiedermi cosa sarebbe stato di me senza la nostra associazione. Ci sono tante persone impegnate, tanti genitori e oggi ci sono quasi 16 persone che ci aiutano nell'ufficio di Roma. Ma c'è ancora bisogno di noi, c'è soprattutto bisogno della nostra associazione perché se vi guardate intorno è ancora faticoso vivere con un figlio Duchenne, vivere come una persona Duchenne. Quindi questo dimostra che c'è ancora bisogno della nostra associazione come quando la nostra associazione è nata e credo che servirà il nostro lavoro ancora per tanti anni. Ma abbiamo bisogno comunque di amici che ci sostengono e che ci aiutino perché il nostro lavoro è estremamente delicato e sicuramente le persone che ci aiutano lo fanno quasi in uno stile di volontariato. ma muovere le risorse comunque ha un costo, un costo che vi chiediamo di aiutarci a sostenere. Sapete che in questo momento è in corso la nostra campagna di sensibilizzazione con il numero di sms che potete chiamare per inviare un messaggio e un contributo all'associazione. sappiamo che avete fatto di tutto per diffonderlo tra le persone che conoscete e di questo intanto vi vogliamo ringraziare. Questi comunque sono comportamenti che aiutano l'associazione a vivere e a continuare a costruire le risorse che sono necessarie per le nostre famiglie. Qualche volta ti senti stanco? Luca ha la distrofia muscolare Duchenne. È una malattia incurabile. È vero che i miei muscoli diventano sempre i più deboli. Colpisce principalmente i bambini maschi e causa la graduale distruzione del tessuto muscolare. Una cura per questa malattia non esiste ancora. Papà, ma anche il cuore è un muscolo. Fa il primo passo con un sms al 45507. Fino al 21 febbraio doni due euro a Paren Project per la ricerca. Prima che Fabio si faccia sfuggire qualche altro dettaglio, ve lo dico io direttamente, altrimenti sembra quasi una denuncia. Abbiamo utilizzato lo spot che era stato realizzato da Leo Burnett, che è una grande agenzia per Paren Project olandese. Anche di questo abbiamo chiesto l'autorizzazione a Elisabeth Vroom, che ringrazio per avercela data. Anche lei sa che non l'avremmo mai utilizzato. Il bambino che vedrete nello spot è Justus, che ai tempi in cui lo spot è stato realizzato aveva circa sette anni. Justus è il figlio di Elisabeth, che è la presidentessa di Paren Project olandese, ed è coetaneo praticamente di Luca, mio figlio. Oggi tutti e due hanno vent'anni. Credo che sia già un grandissimo risultato, che io in particolare ritengo di dovere a Paren Project. Credo che se non ci fosse stato Paren Project Luca non sarebbe qui oggi. Oggi sono tutti e due all'università, in particolare a Justus, Elisabeth è arrivata ora, è a Delt, e Luca è qui all'università di Roma. È una grande soddisfazione e senza di voi sicuramente non sarebbero qui oggi. Quindi questo secondo me è il nostro piccolo grande successo. I nostri guigli oggi crescono, studiano, lavorano, speriamo, faremo di tutto per fare in modo che lavorino nel futuro. Ma dobbiamo ricordarci che tutto quello che noi abbiamo fatto finora è servito a farli crescere. Ora dobbiamo impegnarci nella loro autonomia. Abbiamo fatto di tutto per essere estremamente attenti alla loro salute quotidiana. Dobbiamo preoccuparci adesso della loro autonomia, perché la loro autonomia è la chiave del futuro. È come far crescere un albero in una stanza, non è possibile, rischiamo di soffocarlo. Dobbiamo fare in modo che i nostri figli prendano la loro strada e vivano la loro vita, anche se questo sarà ben più difficile, secondo me, di quanto abbiamo fatto finora. Ma lo sforzo, e secondo me la prospettiva anche della nostra associazione per i prossimi anni, deve essere proprio questa, combattere per l'autonomia dei nostri figli. La salute probabilmente ci darà meno pensieri di quanti ce ne abbia dati negli anni precedenti. È più facile oggi avere cura dei nostri ragazzi, almeno sappiamo come farlo, visto che dal 2010 sono state pubblicate le linee guida, ma dobbiamo preoccuparci di quest'altro problema che è ancora più grande. Siamo contenti di preoccuparcene comunque, io direi. Se riusciremo a rendere i nostri figli autonomi, allora la nostra battaglia probabilmente sarà già vinta per metà. Comunque Parent Project sarà sempre qui per aiutarci a trovare le soluzioni più giuste. Quindi grazie, buon lavoro, perché oggi in particolare è una giornata molto dura, e quindi mi raccomando riposatevi nelle piccole pause che abbiamo organizzato. Inviterei Annemiek, che è la nostra prima moderatrice per la prima sessione. Annemiek Asmarus ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di un approccio terapeutico per la distrofia muscolare di Duchenne attraverso l'exon skipping, che è una tecnica di cui lei stessa adesso vi parlerà, già a partire dagli anni del dottorato, nel 2000, con la supervisione di Judith Van Deutekom. E da allora è diventata responsabile del DMD Exon Skip Group e lo è tuttora in qualità di professore associato al Dipartimento di Human Genetics, all'AIDE. Ha pubblicato un gran numero di articoli e per noi comunque è una risorsa fondamentale, in particolare Annemiek è molto portata per spiegare le cose difficili ai genitori, che sono un po' duri, almeno quelli italiani, non lo so. Poi nel resto del mondo ognuno ne parlerà per conto proprio. Ha partecipato a tantissime commissioni di discussione anche che riguardano la possibilità di utilizzare l'exon skipping in tempi più brevi con l'EMEA e con l'FDA e con le agenzie di regolazione. Quindi è anche un ottimo avvocato per le associazioni di pazienti per le quali combatte e con le quali lavora quotidianamente. Quindi la ringraziamo e la invitiamo a fare la sua overview. Grazie. Grazie Filippo. Il mio italiano non è eccellente, quindi non ho capito tutto, però sicuramente la tua presentazione è stata bellissima. Grazie anche di avermi invitato qui a prendere la parola. e parlerò adesso delle basi della Duchenne e della distrofina perché la distrofia muscolare di Duchenne, come sapete, è causata da una proteina, la distrofina, che non funziona bene. Adesso cercherò di spiegarvi come questo succeda. Innanzitutto, qual è la funzione della distrofina? Cioè, che cosa succede quando la distrofina non c'è? e se sappiamo che cosa succede, come la terapia può evitare o ritardare questo processo e poi vorrei parlarvi della immunità alla distrofina. Spero con questa presentazione di darvi delle informazioni di base che vi aiutino poi a capire le presentazioni che seguiranno oggi e domani. Innanzitutto, ritorniamo, diciamo, alla partenza perché la distrofina è una proteina e le proteine sono i mattoni del nostro corpo e ciascuna cellula del nostro corpo è in grado di fabbricare questa proteina perché le cellule hanno dei geni e i geni contengono la ricetta per la fabbricazione della proteina e quindi se c'è un errore nel gene ci sarà un errore anche nella proteina. Ora, non tutte le proteine devono essere fabbricate in tutti i tessuti quindi le proteine vengono fatte solo nei tessuti dove ce n'è bisogno e dato che la distrofina ha una funzione nel tessuto muscolare se c'è un errore nel gene e se c'è un errore nella proteina questo porta dei problemi dei muscoli. Il muscolo è un tessuto molto abbondante il 30 il 40% del nostro corpo è fatto da muscoli e il muscolo può diventare più grosso come vedete in questa immagine oppure più piccolo perché il muscolo consuma tantissime energie e quindi il corpo mantiene i muscoli soltanto se sono necessari e il muscolo può essere danneggiato dopo un esercizio eccessivo ma questo non è un problema perché il corpo riesce a riparare il muscolo perché se il danno è troppo esteso il muscolo si ingrossa perché il corpo capisce che quel muscolo ha bisogno di più forza e quindi lo irrobustisce il muscolo deve muoversi vedete perché è collegato qui a due tendini a un osso e a un altro osso e in mezzo questa parte rossa è il muscolo e se lo ingrandiamo vediamo che il muscolo consiste di fibre muscolari lunghe se lo ingrandiamo ancora di più vedete che qui c'è una fibra e se andiamo a vedere la fibra ancora più da vicino vediamo che questa fibra muscolare è fatta di due parti quella blu e quella rossa e queste due parti si uniscono insieme se si uniscono insieme questa fibra diventa più piccola e questo processo questo avviene in modo concertato coordinato quindi tutti i muscoli si contraggono contemporaneamente o meglio tutte le fibre si contraggono contemporaneamente di modo che il muscolo diventa più corto e questo vi permette di muovervi ora quindi lo scheletro muscolare diventa per così dire più piccolo ma i muscoli hanno anche uno strato di tessuto connettivo una sorta di pelle del tessuto muscolare di modo che tutto quello che c'è dentro il muscolo stia dentro ora quando il muscolo si accorcia ovviamente questo strato questo tessuto connettivo deve andare da qualche parte e quando il muscolo si allunga deve fare questo lavoro così quindi in questa posizione che potremmo definire normale quindi c'è un collegamento qui un collegamento elettrico che fa sì che questo strato protettivo stia dove deve stare ed è esattamente quello che fa la distrofina la distrofina crea un collegamento tra quello che definiamo lo scheletro della fibra muscolare e il tessuto connettivo tutto intorno a questa fibra e uso questa analogia dell'ancora e della barca quindi vedete c'è questo collegamento di modo che la barca si può muovere un pochettino però resta ferma nel senso che non può andarsene per i fatti suoi ecco ecco come funziona la distrofina mantiene la fibra muscolare intatta durante l'esercizio o durante la contrazione riassumendo quindi le proteine sono i mattoni del nostro corpo i geni contengono la ricetta per queste proteine e i geni sono fatti di DNA e la cellula può tradurre questo codice DNA per trasformare il codice di DNA in una proteina il DNA si trova nel nucleo quindi nel cervello della cellula e questa fabbrica delle proteine si trova nel corpo cellulare cioè nel citoplasma quindi il DNA non può uscire dal nucleo se si usa l'analogia della ricetta il gene contiene la ricetta della proteina questa è la biblioteca e questa è nella cucina il libro delle ricette non lo puoi far venire fuori dalla biblioteca per portarlo in cucina e allora cosa fai fai una fotocopia ed è questo che viene fatto dal corpo quindi c'è questa copia nell'RNA e questa copia della ricetta diciamo può uscire dalla biblioteca e arrivare in cucina o nell'industria diciamo dove vengono fatte le proteine e così viene fabbricata la proteina il gene della distrofina è un gene molto speciale perché è il più grosso che abbiamo nel nostro corpo ha 79 esoni e esoni sono parti del gene che contiene appunto queste informazioni per fare la proteina e qui ci sono degli spazi questo non è in scala perché gli spazi sono molto più grandi di quanto non siano gli esoni allora dal gene viene fatta una copia ma gli introni cioè la parte che non contiene le informazioni devono essere eliminati prima che si possa fare la proteina quindi durante un processo che si chiama splicing tutti questi esoni cioè quelli che contengono le informazioni sulla proteina vengono uniti insieme mentre gli introni che non contengono queste informazioni sulla proteina vengono tolti a questo punto si arriva all'RNA messaggero che contiene soltanto le informazioni sulla proteina e poi questo viene tradotto dalla cellula e si fa la proteina nei pazienti con Duchenne che cosa succede? uno o più di questi esoni non ci sono vedete 48, 49, 50 qui non ci sono e si vede anche che normalmente tutti questi esoni sono ben disposti uno dopo l'altro ora però dato che mancano alcuni esoni il 47 non si incastra bene col 51 quindi il codice genetico è danneggiato quindi la fabbrica legge la proteina fino al 47 poi il codice è danneggiato e quindi non si riesce più a leggere la ricetta quindi viene fabbricato soltanto l'inizio la parte iniziale della proteina e dato che c'era un collegamento come dicevo tra lo scheletro della cellula e il tessuto cognitivo al di fuori solo l'inizio viene fabbricato e quindi il collegamento si perde dato che il collegamento si perde durante l'esercizio fisico normale le cellule muscolari risultano danneggiate c'è un'altra malattia che è causata sempre da un errore del genere che è la Becker qui vedete un esempio il 48 49 50 51 mancano però qui che cosa succede il 47 riesce in qualche modo a incastrarsi col 52 quindi il codice genetico viene mantenuto quindi la fabbrica delle proteine può continuare a lavorare soltanto che al centro manca un qualcosina quindi qui abbiamo una proteina che contiene i due domini però diciamo che la corda che lega l'ancora alla barca è un pochino più corta quindi questa distrofina funziona in parte per cui il danno è più limitato quindi in generale sono colpiti meno gravemente dalla malattia la Duchenne è causata quindi dalla mancanza di una distrofina funzionale e quindi qual è la funzione della distrofina mantenere la stabilità della fibra muscolare durante l'esercizio quindi durante la contrazione la proteina è persa nei pazienti di MD e quindi le fibre muscolari risultano danneggiati durante il normale esercizio muscolare cioè ci sarebbe un sistema di riparazione ma il sistema di riparazione non riesce a stare al passo e quindi il tessuto muscolare si perde e si perde anche la funzionalità muscolare allora entriamo un pochino di più nei dettagli sappiamo che se non c'è distrofina le fibre muscolari risultano lecchi cioè risultano insufficiente quindi il calcio penetra nelle fibre muscolari e la quantità di calcio nelle fibre muscolari è regolato molto attentamente perché il calcio regola le proteasi le proteasi sono degli enzimi che sono in grado di rompere altre proteine e in alcuni casi questo è necessario se lo confrontiamo a una città non so c'è la dinamite che può essere necessaria per esempio quando c'è un vecchio edificio che tu vuoi distruggere che vuoi eliminare a quel punto metti delle cariche di dinamite e sono necessarie cosa fa il calcio? attiva la dinamite in tutta la cellula per cui c'è un danno in tutta la cellula però anche di tessuti sani di tessuti necessari quindi dato che c'è più danno causato dal calcio quindi c'è più danno muscolare e entra sempre più calcio nella fibra muscolare quindi è un circolo vizioso altra cosa che danneggia il calcio è un danno sui mitocondri sugli organelli che producono energia quindi danneggia questi organelli che producono energia e questo causa uno stress enorme alla fibra muscolare quindi un danno ancora maggiore al muscolo si tratta di un circolo vizioso che va ad aumentare il danno va continuamente ad aumentare dato che il danno è cronico il sistema immunitario a quel punto va a vedere che cosa sta succedendo perché normalmente quando c'è un danno vuol dire che c'è un'invasione di batteri di virus di parassiti che cosa sta succedendo allora il sistema immunitario arriva e comincia a produrre delle tossine per liberarsi dai batteri il problema è che batteri non ce ne sono non ci sono neanche parassiti e quindi il danno è dovuto proprio solo alla mancanza di distrofina queste cellule immuni producono comunque tossine e queste portano ancora più danno e anche alla formazione di tessuto cicatriziale quando c'è questo tessuto cicatriziale il tessuto cicatriziale impedisce la rigenerazione muscolare quindi sempre più danno sempre meno rigenerazione tutti questi processi portano poi alla perdita vera e propria delle fibre muscolari e anche della funzionalità muscolare cosa fa la terapia? cerca di puntare a uno di questi processi per cercare di bloccarlo ovviamente le terapie possibili la terapia possibile è innanzitutto la soppressione del sistema immunitario attraverso i corticosteroidi allora dato che riusciamo a bloccare un pochino questo la perdita di fibre muscolari è ridotta però tutto il resto continua a succedere però perlomeno c'è un pochino meno di danno muscolare quindi la progressione viene rallentata ma ci sono tante altre vie terapeutiche i corticosteroidi vengono utilizzati però e sono una terapia le altre vie di cui vi parlerò adesso sono ancora cose in sviluppo che non sono ancora disponibili sono in una fase di sviluppo quindi su modelli cellulari su modelli animali in alcuni casi anche in trial clinici cos'è possibile? utilizzare la calpaina anzi gli inibitori della calpaina e gli antiossidanti in modo che gli organelli che producono energia siano sottoposti a uno stress inferiore questo è un altro modo per ridurre la perdita di fibre muscolari altra cosa che si può fare è aumentare la massa muscolare perché noi sappiamo che la distrofina porta alla perdita di fibre muscolari e quindi se riusciamo a convincere il corpo a fabbricare più muscoli questo potrebbe compensare la perdita ci sono vari modi per farlo inibizione della miostatina e anche un composto che è l'ACE 031 di cui si parlerà domani stiamo parlando sempre degli effetti secondari della perdita della distrofina ma si può anche cercare di arrivare a monte uno dei modi per farlo è con l'up regulation della utrofina è una proteina molto simile alla distrofina è un ancor anche questa tra la cellula e il sistema questa avviene nelle cellule nervose quindi questa proteina può sostituirsi alla distrofina però non si produce nei muscoli perché invece fa parte del sistema nervoso quindi diciamo che se il livello di utrofina se riusciamo a far aumentare il livello di utrofina nelle cellule muscolari potremmo compensare la mancanza di distrofina altra cosa che si può fare è dare alle cellule un gene di distrofina il gene manca possiamo dare alla cellula un gene nuovo oppure possiamo riparare il prodotto genico quello che si fa con exon skipping oppure con questa lettura forzata forced read through a taluren oppure ancora cercare di ridurre in qualche modo il danno alle fibre riprendiamo il discorso dell'exon skipping se ne parlerà ancora oggi e domani il codice genetico è danneggiato nei pazienti con la Duchenne ma è mantenuto nei becker cosa facciamo cerchiamo di modulare il processo di splicing noi cerchiamo di far sì che la cellula che facciamo saltare le zone 51 in modo che le zone 47 si incastri col 52 usiamo la ON che copre il 51 il 51 viene per così dire saltato e questo codice genetico viene recuperato di questo parlerà Steve Wilton più tardi un altro farmaco che è in grado di modulare il prodotto genico è l'Ataluren che interviene sullo stop codon questo è l'RNA messaggero quindi il codice genetico c'è un segnale di start per così dire in modo che la fabbrica sa da dove deve cominciare a tradurre il messaggio e quindi fare la proteina ma anche un segnale di stop uno stop codon per essere certi che la fabbrica sappia quando la proteina è stata completata ora cosa si può fare i pazienti hanno questa mutazione qui nel 13% dei pazienti hanno una piccolissima mutazione che causa un falso stop questo è lo stop normale quindi un segnale di stop diciamo a un diciamo a un incrocio importante invece questo stop è a metà dell'autostrada per dire quindi non ha senso averlo però la cellula lo usa quindi si ha solo l'inizio della proteina e poi c'è il segnale di stop e non va bene ma dato che il segnale di stop è un pochino diverso rispetto allo stop normale è possibile utilizzare dei farmici come la PTC 124 la Taluren che nasconda questo segnale di stop e quindi la cellula non vede questo segnale di stop riesce a produrre la proteina intera e poi c'è anche la terapia cellulare la terapia cellulare non è altro che una forma di terapia genica perché si trapiantano le cellule si trapiantano le cellule un gene di distrofina funzionale o da un donatore sano oppure isolando delle cellule dal paziente modificandole e poi trapiantandole parliamo adesso del sistema immunitario il sistema immunitario reagisce alle proteine che sono non self perché se la proteina non è tua deve essere un virus o un batterio e i pazienti con la Duchenne non fabbricano la proteina distrofina quindi quando reintroduciamo la distrofina il sistema immunitario la vede e la vede come proteina non self e a quel punto scatena la risposta immunitaria abbiamo sempre pensato che questo potesse anche non essere un problema perché molti pazienti comunque hanno un pochino di distrofina o perché fanno un exon skipping spontaneo anche se al minimo oppure perché possono avere delle altre isoforme della distrofina che funzionano nel cervello o in altri tessuti e queste in genere continuano ad essere fabbricate nei pazienti con Duchenne quindi abbiamo pensato che la risposta immunitaria non fosse un problema però una pubblicazione recente ha dimostrato che c'era questa risposta immunitaria alla distrofina dopo terapia genica dobbiamo preoccuparci di questa cosa? Ma personalmente io non credo che dovremmo farlo perché ci sono tante cose che potrebbero spiegare perché questi studiosi hanno trovato questa risposta immunitaria a questo studio pubblicato innanzitutto perché hanno utilizzato un virus per dare la distrofina ovviamente la presenza del virus causa la risposta immunitaria non hanno usato assolutamente nulla per sopprimere la risposta immunitaria hanno soltanto usato il virus come vettore e poi hanno usato una distrofina sintetica e non naturale anche questo può aver scatenato l'immunità e poi hanno utilizzato uno switch virale perché sono molto grossi quindi la cellula può aver riconosciuto questa cosa e quindi avere scatenato il processo immunitario e poi il test mostra che questa presenza del fattore immunitario nel sangue non nel muscolo e i pazienti vuol dire che avevano ancora delle fibre positive alla distrofina nel muscolo hanno trovato questa risposta immunitaria nel sangue ma non veramente nel muscolo quindi secondo me ancora non c'è motivo di preoccuparsi ovviamente tutto il problema della risposta immunitaria deve essere controllato attentamente e quello che ho sentito da quelli che fanno l'exonskipping nei trial dove c'è stato recupero della distrofina non c'è stato scatenamento della risposta immunitaria ed era certamente distrofina quindi non c'è motivo veramente di preoccuparsi però è una cosa che dobbiamo controllare molto attentamente ora qualche parola di cautela io ho già spiegato che le possibilità terapeutiche sono in una fase di prova qui prima sui modelli cellulari quindi il primo test prima per vedere se funziona se ha un potenziale noi possiamo pensare delle cose in teoria poi dobbiamo vedere se funzionano in pratica il vantaggio di questo sistema è che sono pochissime cellule non c'è il sistema immunitario non ci sono gli organi non c'è la circolazione del sangue quindi sono degli esperimenti semplicissimi e fare le cose sulle cellule è semplicissimo poi se c'è una cosa che funziona sulle cellule passi a un modello animale e noi utilizziamo soprattutto il topo MDX che non ha distrofina però ha tutte le altre cose organo organi circolazione del sangue reazione immunitaria quindi è un pochino più difficile però anche questo modello ha dei limiti se c'è un qualcosa che funziona nel topo non vuol dire però necessariamente che funzionerà nei pazienti perché ovviamente questi topi hanno una rigenerazione muscolare molto efficiente nel senso che perdono il muscolo ma lo rigenerano molto rapidamente hanno anche un metabolismo molto molto accelerato quindi una cosa che potrebbe non essere tossica nel topo lo potrebbe essere nell'uomo perché il topo è bravissimo a liberarsi diciamo della carica dei farmaci quando una cosa risulta molto promettente nell'animale viene poi tradotto nei trial clinici ma un trial clinico non è una cura non è una terapia è sempre un test è una prova per vedere se il nuovo farmaco candidato funzioni oppure no nei trial di prima fase la prima cosa che si cerca di capire è se il farmaco sia sicuro o meno poi in fasi successive si va a vedere se è efficace efficace e anche sicuro nel lungo termine quindi bisogna veramente capire che se una cosa è nella fase del trial clinico questo non vuol dire ancora che si tratti di una terapia perché molti farmaci che al momento sono in una fase di trial clinico poi non vanno bene non mostrano nessun effetto terapeutico noi abbiamo bisogno del trial clinico per sviluppare un farmaco speriamo che il farmaco funzioni però bisogna sapere che il trial non è una terapia passiamo alla ricerca di base e questa ovviamente è una semplificazione e la ricerca ci ha dimostrato che dato che non c'è distrofina succedono tante altre cose tante altre cose che portano alla perdita di fibra muscolare di funzionalità muscolare quindi tutti questi processi possono essere altrettanti obiettivi di intervento terapeutico quindi abbiamo bisogno anche di ricerca di base quando vogliamo sviluppare una terapia dobbiamo capire tutto il processo prima di poter sviluppare una terapia riassumendo la mancanza di distrofina è alla base di tutti i problemi dei pazienti con Duchenne e le terapie mirano ad affrontare uno o più di questi problemi adesso sappiamo molto della Duchenne della malattia soprattutto grazie alla ricerca finanziata da associazioni di genitori come voi quindi sono loro che hanno trovato i soldi e hanno pagato per la ricerca ancora non possiamo dire che esista una cura ma data un'assistenza migliorata un'assistenza migliorata l'aspettativa di vita è aumentata moltissimo nell'ultimo decennio e con questo vorrei concludere e penso che non ci sia tempo per le domande ora però se avete delle domande io sono qui fino a domenica e vedete qui ho una persona una persona che è in grado anche di tradurre dall'italiano e voglio ringraziare ancora la Duchenne la Duchenne Parent Project che ha finanziato questo lavoro e questi sono tutti gli istituti che hanno finanziato il mio lavoro sull'action skipping nel corso degli anni grazie dell'attenzione allora vi avevo detto che era bravissima e credo che i dubbi siano spariti completamente a nemica in grado di darci le basi di quello che poi oggi ascolteremo era fondamentale che ci spiegasse da quale palcoscenico dobbiamo partire per ascoltare tutte le persone che oggi sono qui a questo punto vorrei già introdurre passare il testimone come mi suggeriva Fabio Fabio mi ricorda che insomma sono un po' anziano e quindi non ce la faccio da solo a condurre tutta la conferenza e quest'anno abbiamo introdotto questa novità Fabio porta sempre nuove idee e quindi lascio il testimone a Ilaria Baldi che è un genitore una mamma Duchenne una eroica mamma Duchenne come tutte le mamme Duchenne questo perché oggi cercheremo di dare uno spazio a tutti i rappresentanti della nostra comunità quindi a genitori sostenitori volontari i ricercatori e i clinici ovviamente già ce l'hanno per contratto un loro spazio nella nostra comunità ma cercheremo anche a loro di dare una visione più completa di tutti i personaggi che animano la nostra comunità quindi lascio la parola a Ilaria e la ringrazio intanto per essere venuta qui con noi Buongiorno a tutti e se ci sarà qualche momento di emozione chiedo da subito scusa come diceva appunto Filippo mi chiamo Ilaria Baldi e sono la mamma di Alessandro un bimbo di due anni affetto da distrofia muscolare di Ushen quando a giugno dell'anno scorso abbiamo scoperto la malattia di Alessandro il mondo ci ha letteralmente crollato addosso come immagino ad ognuno di voi in quel momento riuscivo a sentire solo rabbia e dolore e frustrazione in quanto mi sentivo completamente impotente era come se guardassi tutta la mia vita da un schermo tv e non fossi più capace di gestire la vita stessa come se improvvisamente fossi del tutto appunto impotente e non padrona di me stessa delle mie azioni o anche solo dei miei pensieri a settembre però c'è stato il primo incontro con la parent project e con Filippo Buccella e allora lì ho capito che dovevo reagire e per farlo come prima cosa dovevo smetterla di sentirmi impotente ma dovevo fare qualcosa per mio figlio che potevo fare qualcosa per lui o almeno ci dovevo provare è nata così con mio marito l'idea del fondo Alessandro Cannella istituita appunto presso la parent project che ha come scopo quello di finanziare progetti di ricerca per le mutazioni meno comuni come quella appunto che presenta Alessandro all'inizio non è stato facile anzi ero completamente spaisata e terrorizzata in quanto per organizzare un evento per il fondo non avevo gli strumenti non sapevo da dove partire ho così trascorso giornate e notti intere davanti al computer davanti ad internet cercando il suggerimento il contatto giusto che potesse indicarmi la strada da seguire alla fine però ho capito che l'unica cosa che potevo fare era semplicemente chiedere aiuto aiuto alle persone che conoscevo e che magari lì per lì erano quasi improbabili come fonte di aiuto ho così capito che ad esempio potevo chiedere aiuto alla barista alla parrucchiera alla collega perché magari loro a loro volta avevano amici parenti conoscenti che potevano in qualche modo indicarmi la strada da seguire in quel periodo e devo dire tuttora ho conosciuto davvero tante tante persone alcune poco sensibili altre invece estremamente disponibili e così alla fine di parola in parola di amico in amico sono arrivati finalmente i contatti giusti così a dicembre quindi relativamente poco dopo considerato che il fondo è stato istituito ad ottobre sono partite le prime iniziative appunto per il fondo Alessandro Cannella c'è stato un concerto di beneficenza c'è stato un musical organizzato interamente da persone che avevo conosciuto tramite facebook e un mercatino di beneficenza nei prossimi mesi partiranno altri progetti altre iniziative come ad esempio una giornata di calcio per beneficenza altri concerti probabilmente un altro musical una giornata di giochi per bambini a scopo benefico certo non posso dire che è facile a volte infatti ci si sente stanchi ci si sente demoralizzati si incontrano le persone sbagliate ci si sente stanchi di avere la porta sbattuta in faccia poi però almeno io guardo Alessandro e capisco che devo fare qualcosa per lui e soprattutto e anche per me stessa quello che voglio dire è che se all'inizio ci si sente impotenti perché la malattia è più grande di noi ed è sicuramente più grande di nostro figlio quello che dobbiamo fare è smetterla di sentirci così smetterla di pensare che non abbiamo il contatto giusto che non siamo nessuno che non abbiamo l'amico giusto ma dobbiamo semplicemente iniziare ad agire iniziare a muoverci a scoprire quelle che sono le risorse che ognuno di noi ha e che a volte sono appunto impensabili sono convinta che l'impegno di ognuno di noi di ogni singolo genitore all'interno della Panem Project e del progetto più ampio che la stessa porta avanti tutti i giorni ormai da anni sia l'unica chiave la chiave giusta per riuscire a sconfiggere la Duchenne per aiutare i nostri figli e per regalare a loro un futuro migliore che sicuramente meritano ora chiedo a Danemic di scusarmi se ho pronunciato male il suo nome ovviamente e di tornare sul parco per iniziare la prima sessione grazie e cominciamo con il dar la parola a Giulio Cossu Giulio Cossu per carità ha un curriculum infinito quindi non lo leggerò tutto assolutamente anche perché se lo dovessi fare non gli resterebbe più tempo a lui per fare la sua presentazione comunque lavora con le staminali ha già fatto tantissime presentazioni a livello internazionale ci parlerà di una nuova strategia per il trapianto autologo nella DMD e nella BMD questo vi dice anche quanto vecchio sono come forse sapete a parte il fatto che ormai qui mi sento a casa perché non so quanti anni sono che sì quei pochi ventenni che io e Filippo ci conosciamo e come sapete noi abbiamo puntato da da sempre su una terapia cellulare per le distrofie muscolari e sulla base dei risultati che abbiamo avuto nei modelli preclinici che non ho tempo di ricordarvi abbiamo deciso di iniziare una sperimentazione clinica utilizzando le cellule di un donatore sano che sono state espanse in cultura in una company che si chiama Molmed e sono ora pronte come prodotto medicinale siamo in attesa dell'approvazione ufficiale del Ministero della Salute italiana e contiamo di iniziare la prima sperimentazione molto presto se tutto va bene a metà del prossimo mese di questa in dettaglio vi parlerà Alberto Lerario domani mattina ma la sperimentazione con le cellule da un donatore ha due problemi il primo è che soltanto i pazienti che hanno un donatore HLA identico come se si trattasse di un trapianto di midollo osseo possono essere elegibili e il secondo problema è che se le cose dovessero andare bene questo significa una immunosoppressione che deve durare fin quanto si vuole che le cellule trapiantate durino nei muscoli dei bambini quindi abbiamo pensato cosa fare dopo e come sapete come vi ha ricordato prima NEMIC il gene della distrofina è troppo grande e anche il suo messaggero la copia del suo messaggero non entrano bene nei vettori virali che si entrano nel genoma quindi noi abbiamo pensato a una strategia nuova ci abbiamo pensato per caso perché come spesso accade in scienza c'è stato un contatto inatteso con un ricercatore giapponese che si chiama Mitsuo Oshimura e che è un esperto di cromosomi artificiali cosa di cui io sapevo ben poco e ancora poco capisco ciò non di meno i cromosomi artificiali voi sapete che il nostro DNA è diviso in tanti piccoli corpiccioli detti cromosomi noi ne abbiamo 46 e la distrofina il gene della distrofina si trova sul cromosoma X cromosoma che è presente in doppia coppia nelle donne in singola coppia nei maschi quello che questi ricercatori giapponesi hanno fatto è di spostare tutto il gene della distrofina in un mini cromosoma un cromosoma fatto in laboratorio che contiene ancora le estremità del cromosoma che si chiamano centromero e telomero e quindi permette al cromosoma di comportarsi come un cromosoma normale fondamentalmente una volta che è dentro la cellula il cromosoma se ne sta per conto suo quando gli altri cromosomi si dividono perché la cellula diventa due cellule anche il piccolo cromosoma si divide per conto suo all'interno di questo cromosoma il gruppo di Mitsuo Shimura e il suo allora studente che attualmente è un borsista nel mio laboratorio che si chiama i detoshi OSHA avevano inserito l'intero gene della distrofina e questo ci sono parecchi lavori pubblicati quindi in questo quali sono i vantaggi di un cromosoma artificiale prima di tutto che non si integra nel DNA quindi il famoso problema che il virus va a entrare in un punto sbagliato del DNA e causa per esempio l'attivazione di un oncogene in questo caso non si verifica il secondo problema è che il cromosoma è grande e benché sia un mini cromosoma è comunque infinitamente più grande di un vettore virale quindi dentro ci potete mettere quello che volete in altre parole voi potete pensare vi farò vedere alla fine a un cromosoma alla carte in cui voi mettete le funzioni che vi possono tornare utili e abbiamo dimostrato vi faccio vedere qualche dato sperimentale velocemente se qualcuno vuole poi vado nei dettagli questo è un lavoro completato lo abbiamo prima dimostrato nelle cellule di topo quindi abbiamo preso i mesangioblasti distrofici abbiamo trasferito con un metodo molto complicato che non vi sto a spiegare e purtroppo piuttosto inefficiente il cromosoma abbiamo selezionato le cellule che le avevano preso e queste cellule le abbiamo trapiantate nei topolini distrofici vedete in questo caso sono marcate con un fluorocromo per cui vedete che la parte trapiantata è fluorescente se fate una sezione in questo caso le cellule hanno un altro marcatore che è l'enzima beta-galattosidasi che rende le cellule blu vedete che hanno una distribuzione e vedete che tutti le fibre che adesso esprimono la distrofina umana hanno un nucleo blu nel loro centro quindi c'è una ricolonizzazione molto efficiente ma noi sappiamo che di solito topo nel topo le cose vanno sempre bene rapidamente il cromosoma rimane tranquillo per conto suo per almeno otto mesi e adesso senza e questo comporta un aumento della forza muscolare nelle fibre che esprimono distrofina e un aumento della motilità degli animali qui non fatevi trarre in inganno questo che vedete è l'attività di corsa dei topi rispetto al baseline cioè rispetto a come correvano al tempo zero vedete che i topi trattati hanno un aumento che si mantiene per molti mesi e anche quando alla fine il livello si abbassa perché rimane comunque molto superiore a quello degli animali non trattati che invece peggiorano col tempo quindi in conclusione il sistema funziona cioè se voi mettete un cromosoma artificiale in una cellula distrofica che non ha la distrofina questo cromosoma è in grado di produrre naturalmente i topi erano immunodeficienti quindi tutto il problema dell'immunità di cui ha parlato prima Nemic qui non conta perché questi topi non hanno un sistema immune ma c'è un problema naturalmente che come vi dicevo il trasferimento del cromosoma nelle cellule è molto inefficiente quando va bene una cellula su un milione più spesso una cellula su dieci milioni dieci alla meno sette le cellule umane a differenza di quelle del topo non crescono per sempre si dividono un certo numero di volte durante ogni divisione la fine dei cromosomi che si chiamano telomeri si accorciano e di questo vi parlerà Alessandra Sacco credo più tardi e naturalmente se voi riuscite a trasferire il cromosoma in una cellula su dieci milioni dovete selezionarla il cromosoma contiene un marcatore di selezione cioè un gene che fa resistere a un veleno che uccide tutte le altre cellule ma per ripartire da una singola cellula e arrivare di nuovo ai due miliardi di cellule che servono non ce la fate le cellule smettono di dividersi prima di allora e allora quello che abbiamo pensato di fare è quello di trasferire nelle cellule umane un gene appunto la telomerasi che allunga i cromosomi ogni volta che le cellule si dividono chi ha la telomerasi le cellule germinali che infatti non invecchiano mai purtroppo le cellule tumorali che infatti sono in grado di dividersi continuamente e questo pone una serie di problemi di sicurezza che vi dirò come pensiamo di affrontare in futuro i vettori purtroppo la telomerasi da sola non basta bisogna questo già si sapeva dalla letteratura bisogna usare insieme la telomerasi e un gene che si chiama BM1 e che è un inibitore di una di quelle proteine che fermano il ciclo cellulare e che si chiama P16 P16 insieme e insieme a un terzo gene che invece è un gene di sicurezza è il gene della timidinchinasi di herpes simplex quando vi prendete l'herpes e mettete la pomatina è perché questa droga uccide un enzima che serve per dividersi al virus ma non uccide le cellule umane quindi tutti questi vettori che abbiamo avuto da di dietro no delle EPFL di Lausanna hanno dei siti LOX vuol dire che hanno delle sequenze di DNA per cui un enzima che si chiama CRE come una forbice li può tagliare via e ricuscire il DNA in questo modo noi possiamo eliminarli dal genoma dopo che ci hanno fatto il lavoro che ci serviva il problema è che questa rimozione non è mai efficiente al 100% e basta una cellula che continua a proliferare per essere pericolosa quindi le cellule in cui noi non togliamo questo virus hanno un gene che permette di essere uccise da una droga questa è la strategia funziona abbiamo usato delle cellule umane che vedete normalmente crescono per alcune divisioni invece in questo caso continuano a crescere indefinitamente mantengono una forte attività telomerasica e telomeri lunghi se poi voi togliete le sequenze che hanno permesso alle cellule di crescere con un vettore virale che però non si integra un lenti speciale che abbiamo avuto da Luigi Naldini in questo caso la prova è fatta con la fluorescenza per essere visibile fino al 90-95% delle cellule possono essere pulite di queste sequenze e ciò non di meno le cellule anche in presenza degli agenti immortalizzanti non sono trasformate non formano tumori nei topi nudi ma mantengono la capacità di differenziare e questo sia in cellule normali che in cellule che sono derivate da pazienti con la distrofia di Duchenne e questo ve lo mostro perché è un risultato di una settimana fa è uno dei due cloni di questi mesangioblasti Duchenne che contiene al suo interno il cromosoma con la distrofina e adesso stiamo amplificando questi cloni e siamo pronti per trapiantarli nei topolini MDX SCID cioè distrofici e immunodeficienti quindi la conclusione è che è possibile immortalizzare reversibilmente le cellule umane senza compromettere la loro capacità di differenziare è possibile trasferire un cromosoma umano che contiene tutto il locus ma siccome uno dice l'appetito vi è mangiando a quel punto dice perché non usare il cromosoma per fare di più e quello che i detoshi che devo dire nell'anno in cui è stato in Italia grazie alla dieta mediterranea ha preso una bella decina di chili da quando è arrivato sta facendo è di creare una nuova generazione di cromosomi in cui noi possiamo mettere una serie di funzioni che ci possono tornare utili per esempio questo lo abbiamo completato noi possiamo mettere un myodic che è il gene che regola il differenziamento muscolare inducibile da una droga che è un estrogeno in modo che quando noi vogliamo dando un estrogeno sintetico che si chiama tamoxifen tutte le cellule differenziano il muscolo e questo ha due vantaggi uno che ottimizziamo l'efficienza del trapianto cioè tutte le cellule che abbiamo messo diventano muscolo secondo come sapete myodic è un anti-oncogene perché ferma la divisione cellulare quindi è un secondo livello di sicurezza ma le ultime cose quello che abbiamo in animo di fare e che cercheremo di fare grazie al progetto che abbiamo appena avuto è di fare ancora di più cioè prima di tutto di inserire una cassetta che immortalizza le cellule direttamente nel cromosoma così da non toccare mai il genoma della cellula quindi le cellule che prendono il cromosoma possono crescere le altre no in questo modo noi abbiamo un modo di immortalizzare le cellule senza inserire geni pericolosi nel genoma delle cellule e poi l'altro problema è quello che se noi mettiamo una cellula normale un nucleo avremo un nucleo normale che fa distrofina insieme a 8 10 20 nuclei che invece sono dell'ospite che la distrofina non la fanno anche se abbiamo dei dati molto preliminari che la modulazione della distrofina può essere regolata contro ogni aspettativa e non ho tempo di raccontarvi questi dati ciò non di meno l'idea è di inserire 4 cdna della distrofina in fila così che in teoria quando un nucleo di una cellula che abbiamo ingegnerizzato in coltura entra in una fibra muscolare invece di fare una dose di distrofina ne fa 5 e quindi può compensare almeno in parte per quei per tutti gli altri nuclei che invece la distrofina non la possono fare e questo è più o meno quello che vi volevo raccontare le persone che sono implicate in questo progetto sono Sara Benedetti Idetoshi Osha e Saverio Tedesco che è responsabile di tutto il lavoro sul topo e Graziella Messina e dei collaboratori vi ho detto in più l'idea dell'immortalizzazione viene da Woody Wright e vi ringrazio per l'attenzione Grazie Giulio sei veramente stato nei tempi detto questo adesso do la parola a Steve Wilton che è veramente uno dei pionieri dell'approccio action skipping è australiano anche lui devo dire ha un curriculum infinito quindi non so forse posso andare a arrivare direttamente alla fine in cui si dice che lui si occupa moltissimo di distrofie muscolari forse è proprio la prima persona tra l'altro che riesce a far sì che uno che ha la distrofia muscolare si rompa una gamba mentre fa skydiving va bene prego hai la parola ringrazio ringrazio innanzitutto gli organizzatori che mi hanno dato la possibilità di tornare a Roma e mi ha fatto una bellissima descrizione della distrofina io inizio in modo un pochino diverso la distrofina è una specie di shock absorber per le fibre muscolari una specie di ammortizzatore per le fibre muscolari quindi in questo caso soltanto una parte è attaccata al trattore che cosa succede se non c'è l'ammortizzatore la ruota alla prima scaffa si stacca e quindi la fibra muscolare si rompe c'è un'altra forma che è la Becker Anemiche l'ha già descritta e ha parlato appunto di questa delezione nel frame e quindi c'è un ammortizzatore che ha una piega cioè che non va bene ma che va meglio che non avere per nulla l'ammortizzatore quindi per cui non ci sia nessun collegamento quindi il Becker va in sedia a una certa età quindi 16 anni 17 anni oppure essere del tutto asintomatico ci sono alcuni casi in cui ci sono delle mutazioni sostanziali nel gene però non ci sono dei sintomi evidenti questo è un caso è il mio amico Pat Mauritian e lui ha distrofia muscolare chiaramente però ha una vita assolutamente straordinaria questo è Pat con la mia squadra questa a Denver l'anno scorso vedete ha un bar con un'amica qui poi abbiamo fatto una pizza sorpresa sorpresa perché era veramente enorme la pizza queste sono altre mutazioni Becker 79 esoni qui mancano dal 3 a 9 qui dal 9 al 22 e vedete questa persona gioca a Bedwinton a 62 anni quest'altro è stato diagnosticato la distrofia muscolare a 60 anni quindi ci sono dei casi di Becker che sono veramente minimi quindi l'idea dell'exon skipping è utilizzare gli oligomeri antisensi quindi ridirigere per così dire l'espressione li ho chiamati bandaid genetici oppure spanner chiavi inglesi molecolari ma l'idea è quella di ridurre la gravità fare passare le Duchenne alle Becker ma come ho già detto le Becker possono essere molto diverse ci possono essere delle Becker che sono quasi Duchenne borderline e altre che sono asintomatiche dipende da dove la mutazione quanto è grande la mutazione e questo ci dirà quanto il ragazzo risponderà bene all'exon skipping in alcuni casi i ragazzi non rispondono nell'80% dei casi però dovrebbe esservi qualche vantaggio e l'altra cosa importante è questa dato che ci sono mutazioni diversi nei vari ragazzi la risposta è variabile quindi questo è il meccanismo utilizzando così questa sorta di chiave inglese cioè c'è una macchina che cerca di mettere insieme tutti gli esoni e qui mettiamo una chiave inglese nella macchina che blocca questo processo cosa succede se gliela mettiamo in mezzo negli ingranaggi a questo punto queste zone si collega a quest'altro quello che noi chiamiamo exon skipping noi sappiamo qual è la sequenza e quindi possiamo disegnare questa chiave inglese in modo tale che si agganci solo a una parte quindi chiave inglesi diverse per capire poi qual è quella che funzioni meglio adesso non vi racconto tutti i lavori di preclinici ma l'abbiamo fatto sul topo MDX e poi il topo doppio knockout è un topo che muore a 15 settimane e gli animali trattati invece vivono più di un anno abbiamo fatto lavori sul cane e anche cellule DMD quindi della della malattia qui vedete la curva dose risposta prendiamo due esoni qui vediamo prendiamo tutto il messaggio tutto il suo messaggio qui e qui sotto togliamo due esoni e quindi il prodotto è più corto possiamo farlo su tantissimi esoni possiamo andare a mirare a qualunque esone nella catena alcuni si tolgono molto facilmente altri richiedono più lavoro questi trial sono andati avanti per molti anni adesso ci sono due linee di studio uno è questo qui questo del pro 51 diciamo che è una chiave inglese diversa l'idea è sempre la stessa la butti nell'ingranaggio e blocca lo splicing questo lavoro è stato pubblicato un paio di anni fa e ne parleremo comunque più approfonditamente domani e poi c'è l'index consortium che usa un'altra cosa che è l'AVI 4658 quindi diciamo una chiave inglese un po' diversa che è stata pubblicata l'anno scorso questo lavoro ambedue questi trial riescono a provare il concetto buttano questa chiave inglese nel muscolo e si recupera la lettura dell'asistrofina ecco vedete perché è stato scelto le zone 51 per il primo studio qui ci sono dellezioni diverse questo è un ragazzo a cui mancano gli esoni dal 51 al 54 qua dal 49 al 50 quindi abbiamo queste stelline rosse sono le varie mutazioni che vengono recuperate con lo skipping delle zone 51 quindi le zone 51 va bene per tutte queste persone ma non per questo qui o per quest'altro e in alcuni casi abbiamo delle dellezioni molto molto estese qui non funzionerà molto bene perché manca una parte troppo estesa del gene quindi la proteina è in frame però non funziona veramente bene in questo caso si tratterà di una becker molto grave questa è semplicemente una proof of concept una dimostrazione qui il composto è stato iniettato questo è il muscolo non trattato questo è il muscolo trattato vedete che il messaggio è stato saltato e tutti i ragazzi nel punto della iniezione per così dire riescono a fabbricare la distrofina se riesce a far entrare il composto la distrofina comincia ad essere fabbricata però si fa in un solo muscolo quindi non è che sia un grossissimo vantaggio poi abbiamo iniziato con dei trial sistemici qui i ragazzi sono stati suddivisi in più gruppi qui è la dose più bassa mezzo miligrammo per chilo peso corporeo poi un milligrammo poi vedete 10-20 per chilogrammo questa è una nuova terapia noi non sappiamo quanto ce ne voglia quindi l'idea era che questi ragazzi ricevessero questa dose una volta alla settimana per 12 settimane veniva data con un'endovena e poi è stata fatta la biopsia muscolare a 12 settimane questa è una cosa ancora in fase sperimentale quindi non posso darvi tutti i dati però tutti i ragazzi nel gruppo ad alta dose hanno fabbricato la distrofina in tutto il corpo qui non è soltanto nel sito dell'iniezione e quindi c'è stata una chiarissima espressione della proteina questo è stato preso da un poster che avevano fatto vedere a Napoli questa è la risposta della distrofina qui vedete i centili blu che rappresentano le fibre positive alla distrofina prima dell'iniezione i centili in rosso sono dopo l'iniezione questo ragazzo non ha risposto questo neanche e questo ha risposto quindi vedete da questo livello uno da uno a tre a otto quest'altro ragazzo anche quest'altro anche e queste sono le alte dosi e nelle alte dosi tutti fabbricano distrofina non c'è ancora un vantaggio clinico perché questo è stato un trial di breve periodo questo ragazzo è stato veramente spettacolare qui vedete degli altri dati il 55% delle fibre di questo ragazzo erano positive alla distrofina dopo la terapia quindi un incoraggiamento enorme però ancora c'è tanto da fare quali sono le sfide di fronte a noi dobbiamo ancora dimostrare dei vantaggi clinici chiari e sicuri come si definisce il beneficio per questo ci vorranno degli anni se l'exo skipping serve solo a ritardare la progressione della malattia già questo sarebbe un beneficio se riuscissimo a bloccare il deterioramento sarebbe un beneficio fantastico però ci vorrà del tempo per capirlo dobbiamo fare partire i trial per altre mutazioni il costo e la sostenibilità degli oligomeri anche questo è un problema di cui dobbiamo occuparci poi problemi normativi perché ognuno di questi cerotti ognuno di queste chiavi inglesi saranno un nuovo farmaco e sono necessarie anni e anni di prove quindi bisogna parlare con le autorità normative credo che ci sia stata una riunione a settembre dell'anno scorso con l'EME è stato molto incoraggiante io non ero presente però credo che Annemiche ci fosse e anche loro hanno riconosciuto la necessità di procedere rapidamente però dobbiamo dare loro le prove per consentire questa accelerazione però perlomeno queste agenzie normative erano disposte ad ascoltare e volevano anche dirci come fare al meglio i trial clinici e come anche accelerare le cose al massimo perché ovviamente partiranno le sperimentazioni con tantissimi farmaci qui vedete gli esoni che abbiamo mirato a cui abbiamo mirato se vuoi l'otto devi togliere dal 3 al 7 al 4 al 7 sono mutazioni diverse che corrispondono al 4,5% delle delezioni Duchenne però le delezioni non sono l'unico tipo di mutazione per tutti i pazienti con Duchenne per tutti i pazienti con la Duchenne corrisponde più o meno al 2,5% le zone 51 un ragazzo su 10 avrà un vantaggio dallo skipping delle zone 51 per quelli che riguarda i prossimi trial dobbiamo andare sulle mutazioni più comuni perché abbiamo tanti ragazzi che l'anno sarebbe la cosa più ovvia oppure dovremmo andare a cercare gli esoni che sono più facili da togliere per cui lo skipping viene facilissimo al momento quello che va meglio è questo vedete dose risposta bassa dose abbiamo uno skipping dal 5 al 50% nelle stesse questo è solo colture cellulare ci sono alcuni di questi che hanno uno skipping che arriva fin quasi al 90% quindi lo skipping è efficientissimo per cui nei trial clinici io spero che avremo un'espressione doppia di distrofina con questi composti rispetto ai composti che sono in trial al momento ecco parlavamo prima di tutte le mutazioni questa è una diapositiva complicatissima cosa voglio dirvi noi stiamo cercando di togliere due esoni nella stessa tempo 17 e 18 e abbiamo quattro modi diversi per farlo quattro combinazioni diverse qui vedete combinazione verde e blu verde e blu chiaro eccetera nelle cellule umane normali sono andate tutte benissimo quello che speravamo succedesse però se noi lo applichiamo a diverse mutazioni della distrofina le combinazioni 1 e 2 andavano molto meglio delle combinazioni 3 e 4 questa persona aveva un errore nelle zone 18 quindi 1 e 2 vanno molto meglio e in quest'altro paziente la mutazione era nelle zone 17 la 3 e la 4 andavano molto meglio di quanto non andassero l'1 e la 2 quindi doveva essere una terapia personalizzata stiamo parlando di 12 oligomeri che potrebbero affrontare diciamo il 75% delle delezioni però per esempio per il 51 raddoppiato non va bene oppure per un stop codon nelle zone 51 non va bene nemmeno e quindi quando un esone è troppo raro per essere considerato per lo studio non credo che ci sia un esempio quindi ogni mutazione dovrebbe essere studiato e queste mutazioni rare soprattutto nel dominio rod potrebbero richiedere l'asportazione di un solo esone e anche una proteina molto funzionale in uno degli esempi di pazienti Becker la delezione delle zone 16 non ha fatto aumentare nemmeno il CK c'erano tre generazioni nella famiglia e questo skipping è stato poi trovato quasi per caso con questi AOS che stiamo utilizzando adesso abbiamo tutta una serie di possibilità di produzione invece il PMO è stato appena brevettato e quindi ci sono pochissime società che le possono fornire e dobbiamo anche giustificare la richiesta perché le aziende farmaceutiche aumentino la produzione e anche bisogna realizzare delle economie di scala perché si aumenti la produzione e un po' si può fare il parallelo con la penicillina quando la penicillina fu fabbricata per la prima volta costava carissima tutto lo stock di una società serviva per curare una sola persona ci sono voluti anni perché la produzione potesse curare dieci persone ma dato che gli Stati Uniti erano in guerra avevano bisogno di curare tanti soldati dalle ferite di guerra e quindi il prezzo dopo un po' crollò perché ci furono questi investimenti enormi spero che succeda la stessa cosa con i prodotti che servono a noi questi sono lavori ancora non pubblicati ho un minuto un minuto benissimo è l'ultima diapositiva qui trattiamo i topi con gli steroidi e l'exon skipping gli steroidi sono il gold standard qui combinazione tra steroidi e exon skipping che va meglio che non l'exon skipping da solo quindi questi sono ancora lavori sui topi non c'è differenza per la forza muscolare però c'è una forte protezione dal danno muscolare questa è l'ultima diapositiva questo è il gruppo di Perth sono delle persone assolutamente stupende nella conferenza a cui sono stato a Londra l'anno scorso parlavano dell'importanza di tutte queste cose per i ragazzi con la Duchenne e allora vedete vitamina D olio di pesce anche questi sono gli esempi australiani di queste cose voglio ringraziare anche queste persone grazie buongiorno riguarda la duplicazione del DNA la duplicazione sicuramente può essere fatta a livello non so della delezione anche del singolo esone comunque la duplicazione del singolo esone può essere diciamo gestita in modo piuttosto efficiente l'esempio che vi ho fatto vedere io riguardava soprattutto l'esone 18 che veniva duplicato e si può rimuovere direi con una discreta efficienza abbiamo visto che la duplicazione che riguarda più esoni o che comunque è più ampia è più difficile è più difficile alcune delle grosse duplicazioni che riguardano non so 10 o 20 esoni ecco queste sono attualmente un problema ci stiamo lavorando posso aggiungere una cosa anche per dare l'impressione che non che non si vada in 10 strade diverse ma che esiste una coordinazione l'exon skipping è certamente una strategia più semplice del trapianto cellulare perché fondamentalmente è un farmaco it's a drug ma come per esempio la storia delle immunodeficienze congenite insegna se si può fare trapianto di midollo quella è la terapia elegibile il vantaggio della terapia cellulare soprattutto autologa con un cromosoma artificiale è che è indipendente dalla mutazione quindi potrebbe essere considerata come una strategia per quei pazienti le cui mutazioni risultassero più difficili da essere trattate con l'exon skipping questo per cercare di dare un contesto generale in cui tutte le parti devono andare insieme a integrarsi non è che una va in una direzione una va in un'altra alla fine bisogna cercare di arrivare a un disegno comune ancora a proposito della duplicazione vorrei dire che il problema è che questi oligonucleoti di antisensori riconoscono le zone allora quando c'è la duplicazione ci sono due zone uguali mentre te interessa soltanto uno sono uguali e quindi saranno interessati entrambi mentre a te ne interessa soltanto uno quindi alla fine finisci con interessarti di due zone allora se c'è la duplicazione di un zone in realtà sono due zone interessati in realtà finisci col dire ma no andiamo a parlare di un altro zone dove si possa ripristinare in qualche modo la frame la cornice se invece questa duplicazione riguarda più zone evidentemente è possibile che ci saranno alcuni di questi zone presenti due volte allora di fatto a te interessa averne uno come target però siccome c'è la situazione di due zone assolutamente identici chiaramente hai un problema poi se gli zone invece di essere due sono nove il problema aumenta vorrei ancora dire che in alcuni casi non devi occuparti della intera duplicazione ma semplicemente della parte frame shift la parte cornice diciamo allora se hai una duplicazione mettiamo di cinque zone in cui due hanno totalmente distrutto la loro cornici di lettura evidentemente tu vai ad occuparti di quegli zone di cui ti puoi occupare quelli in cui la reading frame è stata mantenuta intatta ecco diciamo che ci sono diverse strategie che si possono attuare per quello che riguarda la duplicazione dunque c'è più di una possibilità una domanda da farmacista ma parlando di uno sviluppo degli oli o di altri farmaci molto costosi come si ipotizzava prima per la penicillina dobbiamo sempre tenere presente che si tratta di una malattia rara quindi i numeri sono comunque molto più ristretti e il rischio che i prezzi rimangano comunque alti esiste a meno che qualcuna di queste strategie non possa essere utile anche per altre malattie rare quindi noi possiamo pensare che magari vengano utilizzati come piloti nella distrofia di Duchenne e poi una volta che il metodo venga riconosciuto idoneo possono essere estese le fattori che preparano comunque gli oligo o altre sostanze analoghe che possono poi essere utilizzate anche per veicolare altre o per entrare a curare altre malattie o se no dobbiamo sperare che prendano nei militari anche i distrofici perché così assolutamente ragione a proposito della possibilità di applicare questi farmaci ad altre malattie in effetti io mi occupo di Duchenne ma anche non so dell'atrofia muscolare spinale piuttosto che la tassia di Friedrich o non so la distrofia miotonica e poi naturalmente c'è per esempio l'asma l'asma è molto interessante quindi c'è una malattia complessa però che riguarda magari anche altre condizioni che può essere stesa ad altre condizioni allora lì è chiaro che la casa farmaceutica si interessa di più ora in genere i nostri geni hanno introni ed esoni il 90% dei nostri geni è così costituito allora diciamo che c'è poi questo splicing questa giunzione che si verifica normalmente allora io sto dicendo che la distrofina può essere gestita cambiando lo splicing cambiando l'elemento di giunzione questo può riguardare molte condizioni patologiche sì io faccio una domanda dal genitore quindi mi scuso sin da ora se è tecnicamente imprecisa volevo chiedere al professor Wilton per quanto riguarda l'exonskipping se diciamo qualche scettico rispetto a questa tecnica sostiene che potrebbe produrre distrofina ma che questa distrofina non sia del tutto funzionale in alcuni casi allora per quanto riguarda ragazzi magari in età più adulta che prospettive potrebbero esserci rispetto a questo approccio e al professor Cosso volevo chiedere se era possibile un attimo approfondire un po' di più la questione legata al trial che diciamo parte del prossimo mese diciamo sulle prospettive e un po' anche sui tempi ecco che questo potrà comportare anche rispetto alla questione donatore o altro grazie l'exonskipping non sarà una cura questo lo devo dire con molta chiarezza dipende tutto da dove si trova la mutazione detto questo non so abbiamo sentito Ann Miche parlare dell'ancora della corda la barca eccetera allora se c'è una mutazione in uno dei nodi per così dire della corda la mutazione si può rimuovere però si distrugge il nodo e allora abbiamo un fenotipo di altro tipo l'exonskipping può funzionare però magari producendo una proteina non del tutto funzionale è chiaro che probabilmente i due terzi del gene possono andare persi è possibile questo io ho parlato di un grosso gruppo di esoni però è possibile che intervenga un altro tipo di malattia in quel caso allora attenzione non parliamo qui di cure dobbiamo essere molto molto realisti mi piacerebbe rispondere sì alla domanda di questa una domanda del genere ma non posso farlo dipende da dove si trova la mutazione allora se funziona bene è possibile che la progressione sia diminuita in termini di velocità oppure è possibile andare a appunto ridurre ulteriormente il tempo di rallentamento della malattia però attenzione non è una cura attenzione sono pochissime le mutazioni per le quali una cura è possibile e qui parliamo di mutazioni rare del trial ne parlerà in dettaglio domani mattina Alberto Lerario posso anticipare che speriamo di poter partire a marzo con i primi tre pazienti e di avere una risposta soprattutto sulla tossicità perché ricordiamoci è una trial di fase 1 che serve a dimostrare che il trattamento non produce effetti avversi verso l'autunno e abbiamo in programma altri tre pazienti che sono risultati elegibili per la prossima primavera e questo è il il programma come come al momento anche una fase 2 per vedere un minimo di efficacia perché altrimenti non avrebbe giustificato il rischio dell'immunosoppressione ma è fondamentalmente una fase 1 vorrei sapere buongiorno qual è la situazione in Italia legislativa e organizzativa riguardo alla conservazione del sangue del cordone umbilicale della placenta cioè cosa può o deve fare un genitore nel caso nasca un fratellino o un cuginetto Alban grazie penso che Steve possa rispondere a questa domanda è una grande conoscenza della legislatura in Italia no in realtà non lo so bene diciamo non mi fate dire cose quello che so al momento è una storia che va avanti da una decina d'anni o forse più esiste una legge in Italia che autorizza il prelievo e la conservazione del sangue come di qualsiasi materiale biologico soltanto in banche autorizzate dal ministero della salute e di natura questi sono i centri amatologici degli ospedali ok in generale il sangue del cordone ombelicale può essere donato ma viene donato in modo anonimo cioè viene perduta la identità del donatore e molte famiglie si rivolgono a compagni straniere che per una cifra significativa ma non impossibile prelevano il sangue cordonale e lo conservano ok c'era stato un tentativo mi sembra qualche anno fa al Rizzoli di unire pubblico e privato cioè di avere una compagni italiana che era congiunta con l'ospedale Rizzoli in modo che sfruttava l'autorizzazione dell'ospedale a mantenere il sangue e il cordone e la facilità di gestione delle compagni sappiamo come sono farraginose le strutture pubbliche in Italia per poter fornire questo servizio questo credo sia la situazione al momento aggiungo che dal punto di vista delle terapie cellulari non esiste un'evidenza solida che le cellule del cordone possano formare fibre muscolari quindi considerando oggi il problema e l'esistenza delle cellule riprogrammate come sapete dalla scoperta di Yamanaka si possono prendere delle cellule del nostro corpo e riportarle indietro allo stadio di cellule staminali embrionali che poi possono essere indotte a formare cellule muscolari o cellule vascolari o quello che uno vuole in realtà io come opinione personale non vedo una necessità assoluta di salvaguardare il sangue del cordone che in realtà serve principalmente per le malattie ematologiche pediatriche perché è lì che è importante ma in tutti gli altri casi il suo potenziale impiego è tutto da verificare vorrei aggiungere un altro particolare a quello che diceva il professor Cossu l'argomento della donazione delle cellule del cordone e la conservazione in Italia è stato già affrontato insieme a Francesca Ceradini che è il nostro biologo molecolare e può essere ancora riaffrontato quindi Francesca è comunque a disposizione per darvi tutte le informazioni perché voi sapete che l'Italia è un paese molto antico ma anche molto moderno cambia ogni sei mesi per cui è difficile stare dietro ma lo sforzo della nostra associazione è proprio questo cioè in base a come gira il vento cerchiamo di capire che cosa si può fare in quel momento e questo si può fare solamente nel momento in cui lo richiedete quindi in qualsiasi occasione abbiate necessità di avere informazioni almeno su questa tematica potete rivolgervi attraverso il numero verde o attraverso le mail sul sito internet a Francesca Ceradini e avete qualche informazione in più ovviamente perché quello che diciamo oggi qui di come si può fare in realtà domani potrebbe essere completamente diverso forse già lo è probabilmente chiedo troppo però visto che siamo qui per sperare mi tocca chiedere anche questo cioè l'applicazione dell'exonskipping precluderebbe un domani l'eventuale applicazione del cromosoma artificiale quindi possono benissimo viaggiare sullo stesso binario e avere cioè dare molta più forza a quella che attualmente credo sia un passo molto più avanzato di quello dell'exonskipping no vabbè penso che di aver espresso il mio desiderio grazie solo per dire che il cromosoma artificiale è almeno 5-6-7 anni lontano dalla sperimentazione clinica mentre per l'exonskipping ci sono delle fasi cliniche che sono in corsa certamente l'aver partecipato a un exonskipping che per qualche motivo non ha funzionato non è una condizione che preclude la terapia cellulare e viceversa se ha funzionato non c'è in altre parole il goal è portare ad avere della distrofina nelle fibre muscolari è chiaro che i trial non si possono fare insieme perché uno deve capire se il trattamento A ha un effetto 1, 10 o 100 e se il trattamento B ha un effetto 1, 10 o 100 così ci dia poi si potrà pensare come la storia della medicina insegna se è il caso a trattamenti combinati ma io non vedo un motivo per cui aver partecipato come Steve vi ha fatto vedere ci sono pazienti che rispondono benissimo all'exonskipping ottimo se un paziente non risponde all'exonskipping non c'è un motivo per cui non possa fare la terapia cellulare e viceversa sono strade diverse che un domani potrebbero anche essere come dire in qualche modo unite ma al momento probabilmente bisogna valutare caso per caso esiste un limite di età per un'applicazione dell'exonskipping o no sarebbe meglio cominciare il prima possibile prima che il danno si sia consolidato con i ragazzi un po' più grandi il danno già c'è quindi magari è veramente difficile procedere col trattamento però se si può cominciare il prima possibile è possibile che il danno possa addirittura essere prevenuto ecco abbiamo lavorato con un gruppo di Oxford e abbiamo visto che nei topi double knockout abbiamo visto che diciamo questi topi veramente morivano molto presto però ripristinando la distrofina anche se siamo nell'ambito di una BMD quindi con un solo esone c'era una sopravvivenza superiore di un paio d'anni quindi c'era una qualche differenza che si è vista allora prima si fa meglio è per quanto riguarda poi la sua seconda domanda ecco le combinazioni di trattamenti probabilmente potranno avere un risultato maggiore non so steroidi ed exon skipping steroidi ed exon skipping ecco gli steroidi nel topo hanno reso l'exon skipping più efficace quindi non so in altre parole si va a regolare la crescita muscolare grazie all'exon skipping e non soltanto perché si procede con degli antinfiammatori e appunto gli steroidi e questo può in qualche modo aiutare diciamo la regolazione poi ci sono altri trattamenti combinati che si possono utilizzare io la vedo così la faccenda dell'exon skipping però ci vuole ancora un po' di tempo prima si è detto che in alcuni casi si verifica un exon skipping naturale diciamo è possibile vedere nel paziente se effettivamente c'è ed è verosimile che duri nel tempo è destinato comunque a cessare allora intanto diciamo che questo succede pochissimo talmente poco che di fatto quasi non si vede avviene ad un livello bassissimo il risultato è che il paziente non migliora comunque attenzione quindi se c'è un 1% di distrofina chiaramente non è sufficiente perché il paziente continuerà ad avere la Duchenne allora noi vorremmo fare in modo che questo exon skipping a livello bassissimo possa invece verificarsi a livello più elevato non so forse 15 20 anche non so un 30% di distrofina è l'ammontare necessario per avere un effetto quindi si succede però ad un livello talmente basso ad una percentuale talmente bassa che purtroppo l'effetto è quasi zero e poi per quello che riguarda il meccanismo delle fibre revertanti ecco diciamo che questo è un processo assolutamente stabile cioè non è che prendi un paio di esoni per ripristinare la reading frame in media hai bisogno di 20 esoni quindi è veramente un grosso salto un grosso skipping allora io ho cercato di lavorarci con queste fibre revertanti in effetti se prendi 20 esoni un blocco di 20 esoni è possibile applicare questa strategia a molti più ragazzi di Hushen piuttosto che con un trattamento personalizzato ecco quindi sicuramente sulle fibre revertanti ci stiamo lavorando però il meccanismo c'è come dicevo il meccanismo c'è ed è stabile ma per il momento come ha detto Nemiche la frequenza è talmente bassa da essere praticamente nulla per i ragazzi preclinico cioè nel senso non è manifestata la distrofia muscolare preclinico scusate se si poteva fare qualche cosa con l'exoskipping in effetti questo forse è il momento migliore cioè prima proprio che si verifichi il danno allora prima che ci sia fibrosi tessuto cicatriziale eccetera se cominciamo il trattamento così da proteggere il prima possibile questo giovane muscolo forse ce la facciamo si parlava dei topi knock out ecco se il trattamento cominciava troppo tardi questi animali morivano ma se si cominciava prima diciamo a due giorni dalla nascita vi dicevo prima in realtà questi topi vanno avanti sopravvivono parecchio quindi prima cominciamo meglio è però ci vuole tempo per trovare il modo più efficace per esempio di rilasciare questo di procedere con questo exoskipping no? quale dosaggio quale distribuzione chimica insomma si continua a parlare del modo migliore di somministrare questa terapia diciamo ecco non so tutto sommato qui parliamo di cose concepite solo un paio di anni fa per cui ci sono dei trial certamente per il momento sembra sulla base di questi trial che ci siano delle risposte singole individuali però è chiaro che è un tempo di grande frustrazione per tutti quanti noi mi dispiace molto grazie a Steve e a Giulio e adesso continuiamo la conoscenza della nostra comunità di Ushen conoscendo appunto un nostro sostenitore il signor Marco Bartoletti innanzitutto ringrazio Filippo Buccella per avermi invitato a questo importantissimo convegno e visto che non è cosa frequente per me parlare in pubblico spero di non fargli fare brutta figura mi presento il mio nome è Marco Bartoletti lavoro e sono presidente di una società che lavora per i marchi della moda e due anni fa avvi un incontro che ha cambiato radicalmente il mio modo di vedere le cose infatti durante un colloquio di lavoro per l'assunzione di nuove impiegate ho conosciuto una signora che aveva sul volto un'espressione che mostrava sofferenza dietro mia insistenza venne a sapere che al suo bimbo era stata diagnosticata la Duchenne fu un colloquio intenso tenero commovente in un'ora passarono davanti a me gli occhi e tutte le sofferenze che una diagnosi del genere può provocare un incontro che non dimenticherò per tutta la vita la signora fu assunta e da quel momento ho sentito prepotente il bisogno di fare qualcosa di più tutto si svolge in un paese toscano nel quale io vivo e lavoro Calenzano Firenze una terra come tante densa di opinioni diverse che dividono la gente dalla squadra di calcio alla politica alla chiesa opinioni che spesso non permettono di affrontare in modo corale argomenti di interesse sociale per questo ci troviamo spesso di fronte a diverse iniziative di solidarietà che nascono e muoiono senza determinare i grossi cambiamenti una sorta di frazionamento di solidarietà varie che alle volte crea confusione e sembra giustificare chi non partecipa a continuare a non partecipare mai l'iniziativa ha preso il via con un invito a cena rivolto al sindaco all'amministrazione comunale ai carabinieri ai vicili urbani al parroco ai dirigenti delle varie associazioni sportive a tutti i dipendenti BB e ovviamente a Parin Project a parer mio non tutti avevano capito cosa stavamo per raccontare ma confidavo sul fatto che un invito a cena alla fine non si rifiuti mai Filippo Buccella non poté venire ma furono ugualmente bravissime Marica Gallo e Francesca Bottello di Parin Project a spiegare ad un intero paese cosa ci stava muovendo in quel momento e cosa avremmo voluto fare in futuro la partecipazione di tutti fu toccante sinceramente oltre le più rose aspettative da lì al poco il parroco ci fornì una sede per creare il CAD subito dopo l'amministrazione comunale ne ha fornito un'altra quella attualmente occupiamo l'anno dopo rispondendo alla proposta del grande Filippo Buccella abbiamo contribuito alla realizzazione della conferenza sugli aspetti endocrinologi della Duchenne svoltasi a Firenze e a Calenzano è importante sottolineare la manifestazione sia fregiata del patrocino e dei sindaci Biagioli di Calenzano e Renzi di Firenze voglio condividere con voi il piacere che ho provato nel notare la grande partecipazione dei sindaci sull'argomento Duchenne essi stessi a loro volta sorpresi di trovare una società privata fra gli organizzatori seguirono poi altre iniziative di quelle che tutti noi conosciamo incontri di calcio poi la raccolta di fondi scene benefiche eccetera tutto va bene pur di raccogliere fondi e sensibilizzare le persone sull'argomento insomma abbiamo cominciato e non ci fermeremo certamente qui il mio pensiero di sostenitore è chiaro e semplice e con un po' di buona volontà un paese si può unire nel nome della solidarietà dalla nascita di un centro card in Toscana dal conseguente impegno di donne e uomini nel paese si può riuscire a creare un effetto domino capace di trascinare a questa avventura solidale tanta gente dalle idee diverse ma che unisce per impegnarsi attivamente nel campo della solidarietà con un unico grande obiettivo comune sconfiggere la Duchenne nel concludere intendo rivolgermi ai miei colleghi imprenditori adesso che tutto il mondo del lavoro si va dotando di certificazioni etiche che regolamentano le imprese credo sia veramente arrivato il momento di mostrare a tutti quanto possa essere ancora forte il nostro spirito d'iniziativa quello che negli anni ci ha sempre contraddistinto nel mondo superando con un balzo i protocolli le normative solo che oggi questo spirito d'iniziativa può affermandosi non solo nella direzione lecita e logica del profitto ma può spingersi verso quella nobile capace di arricchire anche lo spirito che è quella della solidarietà rendendo nel concreto le nostre aziende veramente etiche abbiamo la possibilità di identificare nella solidarietà un valore che ci differenzia dagli altri abbiamo il dovere di sostituirci alle istituzioni che sempre più spesso latitano forniscono assistenza risorse insufficienti tutti noi sappiamo bene che al contrario i ragazzi d'uscene necessitano di sostegno e programmazione sociale utili a combattere la malattia io credo profondamente che occuparsi delle difficoltà dei bambini d'uscene abbia un valore etico che occuparsi di finanziare i progetti di ricerca sia etico che aiutare a fondare in altre comuni e città i centri di ascolto per un project sia etico che occuparsi di riunire altre persone perché conoscano il nostro problema sia etico che vincere la d'uscene sia etico questa è la vera certificazione etica il nostro compito sarà quello di fornire le risorse necessarie a vincere la battaglia ne sono certo ci penseranno gli illustri clinici e i ricercatori qui presenti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti